Ciao a tutti! Oggi sono qua per fare insieme a voi un unboxing davvero molto molto speciale perché si tratta di una box nuova nuova, italianissima e dedicata alle donne. La box in questione si chiama Rebel Box, uscirà l'8 marzo in occasione della festa della donna. È una box mensile il cui contenuto è a sorprese e cambierà ovviamente di mese in mese, potrete però trovare degli indizi sul sito. La particolarità di questa box è che tutti gli oggetti contenenti sono stati realizzati in collaborazione con delle donne, artiste, artigiane. Ogni mese inoltre parte del ricavato viene devoluta a un'associazione che si occupa della tutela dei diritti della salute delle donne. Il prezzo è di 27,90€, comprese le spese di spedizione. Per tutte le altre informazioni vi rimando al sito che troverete ovviamente linkato qua sotto in descrizione. Partiamo ora con l'unboxing perché sono veramente molto curiosa di sapere che cosa ci sarà all'interno. Innanzitutto devo dire che come si presenta è veramente molto deliziosa e carina, mi piace tantissimo la grafica, questi disegni semplici con i toni un po' rosati. E poi qua sopra in cima c'è scritto Girls Can Do Anything. Scopriamo insieme il contenuto, sono veramente molto emozionata. Ecco come si presenta, ancora non si riesce bene a intuire niente. La prima cosa che ho avuto in questa box sono delle cartoline che penso servano a raccontare la storia delle ragazze che ci sono dietro questa box. Quindi le tengo momentaneamente da parte ma poi le andremo a rivedere insieme. Allora, il primo oggetto è, penso, una tazza. Home is where my books are. Veramente bellissima. La frase almeno mi piace tanto e anche i colori utilizzati. Adesso l'apro e ve la mostro meglio. Nooo! È stupenda perché oltre alla citazione davanti c'è anche questa bellissima illustrazione di una ragazza che legge con un gattino di fianco, un gatto rosso. È bellissima, mi piace veramente tanto. La tazza è stata realizzata da Anna Maria, c'è infatti, come vi dicevo all'inizio, un cartoncino dedicato con la storia di questa creatrice. Ha una grande passione per i fumetti, l'animazione e il mondo Disney, quindi vi lascerò i suoi contatti poi qua sotto in descrizione. Andando avanti c'è questo sacchettino misterioso. Molto profumato. Non riesco bene a identificare l'odore, però sta di buono. Secondo me potrebbe essere una candela o una saponetta, però punto di più sulla candela. Vediamo se riesco a togliere il nodo. Ce l'abbiamo fatta, o almeno ce l'ho fatta. Wow! Abbi cura di splendere, che bella! Allora, questo è il modo in cui si presenta. Vedete c'è un cartoncino con una scritta veramente molto molto carina. E questa è la candela. Sembra un po' un dolcetto, una torta a cioccolato e qualcosa. In realtà penso siano tutte spezie, perché ha un odore veramente avvolgente, caldo. A me piacciono molto le profumazioni speziate, quindi è perfetta per me. Questa candela è stata realizzata da Angelica, vi lascerò i suoi contatti qua sotto in descrizione. Realizza per appunto candele. E niente, mi piace un sacco che ci sia per ogni artista una scheda di informazioni che racconta non soltanto la sua attività, ma anche la storia, come è nata questa passione. Andando avanti, c'è qualcosa che assomiglia vagamente a una bustina di te? Sì, che bello! Io sono la persona da te perfetta, ideale, quindi queste cose mi fanno impazzire. Allora, c'è scritto Le fiabe del buongiorno, Rise and Shine Fairy Tales, La bambina al buio. Qua c'è scritto Roberto Piumini, illustrato da Cecilia Cavallini. Tempo di lettore, 5 minuti di infusione. Narra te, ma è bellissima come idea. Allora, questo è il modo in cui si presenta, come vedete ha una tazza da te, all'interno c'è la bustina, e viene poi ovviamente spiegato il tutto anche sul retro. Io sono una grande amante del te, come sapete bene, quindi non potrebbe rendermi più felice questa cosa, anche perché è ispirata proprio al mondo della lettura, ed è molto in tema anche con la tazza di prima. Oltre alla bustina da te, infatti, vedevo che il cartoncino era bello spesso, dentro c'è in realtà un libricino. Adesso ho paura di rompere qualcosa, però provo ad aprirlo per mostrarvelo. Infatti, oltre alla bustina che è qua agganciata, c'è la storia, la bambina al buio, sia in italiano che in inglese. Ci sono anche delle illustrazioni, un'idea veramente molto originale, secondo me. Anche in questo caso si tratta di un'azienda italiana, per l'appunto Narra Tè. Con una bustina di tè si prepara mezzo litro di tè, quindi due tazze abbondanti, top, fantastico. Quindi questa è, diciamo, una porzione per due di quelle tazzoni grandi che piacciono molto a me. Comunque sono molto incuriosita da questa azienda che è, appunto, italiana. C'è un sacchettino, vediamo subito cosa c'è al suo interno. Wow, è qualcosa, secondo me, ha fatto tipo all'uncinetto. Io adoro, adoro. Allora, guardate qua, che cosa carina. Questo è tipo un copritazza. Ne ho fatti anche io perché sono veramente comodi. Sapete quando la tazza scotta e non riuscite a tenerla in mano? Ecco, questa avvolgitazza serve per quello. Ecco qua, guardate che bello. A parte che i colori sono veramente molto carini, perché è un grigio tendente a lavanda comunque, tipo glicine. Piace veramente tanto. Poi ci sono questi due bottoni, invece, rosa. Veramente molto, molto belli. Quindi è stupendo. Sarà che io ho il pallino, appunto, di queste cose fatte a mano? Ma è veramente molto carino e soprattutto è qualcosa di funzionale. Il copritazza è stato realizzato da Hannah's Hands, from Hannah's Hands. Ha anche un blog dedicato alla sua passione per i lavori a maglia. Quindi non vende soltanto, ma condivide, diciamo, anche le sue creazioni. E anche in questo caso troverete tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Le ultime cose che vedo sono cartoline. Adesso finisco di tirar fuori. La prima è questa qua, Signor Fox. Questa illustrazione è stata fatta da Cecilia Cavallini. E dietro c'è qualche riga che racconta la storia di questo Signor Fox. Veramente molto carina. C'è poi un sacchettino Bossi, perché credo proprio che questa prima box sia in collaborazione con Bossi. Vedo delle spille, uno sticker. Per chi non conoscesse Bossi, è un progetto che parla di parità, disuguaglianza fra uomini e donne e si batte per i diritti della comunità LGBT. All'interno ci sono delle cartoline. Il primo è Bossi, in cui viene raccontato essenzialmente che cos'è. Un'altra cartolina veramente molto carina, ma forse la mia preferita, è questa qua. Veramente molto bello. L'hashtag è Lei Merita Spazio. E dietro c'è scritto, infatti, ci sono donne in grado di ispirarci. Donne delle quali vorremmo parlare, donne che vorremmo che altri conoscessero. Perché meritano spazio. Questo era dunque tutto il contenuto della box. Come vedete l'ho svuotato. Ricapitolando, oltre alle ultime cartoline dedicate a Bossi, c'era la bellissima tazza con il copritazza, la candela profumata e ovviamente la bustina di tè con un annesso libricino. Nel caso foste curiosi, qua sotto in descrizione troverete il link appunto per la Rebel Box, se siete curiosi di saperne di più, di spulciare, insomma, per qualsiasi cosa. Ringrazio tantissimo il team di Rebel Box per avermi dato l'opportunità di scoprire la loro prima box. Mi è piaciuta veramente tanto tanto. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!